Oggi osserveremo un argomento interessantissimo, ovvero come usare le glasse per i nostri dolci. È un argomento abbastanza generico quello che sto appena dicendo, perché molto spesso mi viene posta una domanda molto semplice. Posso usare la mia glassa per poter glassare i miei dolci? Questa qui è una domanda super generica, che merita di avere un'osservazione un po' più dettagliata, perché non tutte le glasse sono adatte a tutte le preparazioni. Ad esempio, oggi osserveremo come la glassa a specchio non può essere adatta alle preparazioni come quelli da forno, osservando anche altre tipologie di preparazioni e del perché questo non è indicato. E come magari possiamo riuscire ad utilizzare una glassa a specchio per un dolce da forno, per avere poi una copertura precisa e perfetta. Perché glassare un dolce, perché noi glassiamo per proteggere quello che è il dolce, affinché questo non possa avere un contatto diretto con l'ambiente esterno e quindi li fa da protezione. Ed ecco che sapere quando e come utilizzare una glassa per la preparazione giusta è molto importante, affinché chiaramente non andiamo a rovinare quella che è la preparazione, perché ad esempio, come vedrai in questo video, andremo a vedere due tipologie di glassaggi con due glassi diverse per vedere come questi reagiscono con un classico dolce da forno. E vediamo perché con un dolce da forno dobbiamo porre delle attenzioni molto importanti, perché le glassa a specchio vengono utilizzate per poter glassare i dolci moderni che hanno una struttura diversa dall'esterno. E noi andremo ad osservare nel dettaglio perché questo non può avere dei risultati positivi se andiamo a glassare un dolce da forno o anche un classico pan di spagna o una torta alla panna. E perché? Lo vedremo in questo appuntamento. Se non mi conosci, io mi chiamo Luigi Franco, sono uno chef pasticciere, sono il creatore e il fondatore della Pastry School, che è la mia scuola di pasticceria, dove insegno ad aspiranti, appassionati e pasticceri quelli che sono le tematiche della pasticceria, per avere una conoscenza più approfondita. E voglio accompagnarti in questo appuntamento molto semplice, preciso e che va dritto al sodo per capire come e quando usare le glassi e quali glassi sono adatte, per ad esempio in questo caso quelli che sono i dolci da forno e a cosa porre l'attenzione. Quindi iniziamo da subito. L'obiettivo quindi è quello di glassare un dolce da forno, come quello che stai vedendo adesso, che è poroso, non è liscio, è un classico dolce da forno che noi vogliamo glassare. Bene, adesso vediamo che cosa succede se andiamo a glassare di punto in bianco questo dolce. Allora, prendiamo quella che è la glassa, che chiaramente abbiamo realizzato, una classica ricetta di glassa a specchio, che adesso è ben rappresa da frigorifero. La dobbiamo portare alla temperatura di 30 gradi, la dobbiamo rigenerare per renderla senza bolle, brillante, lucida e pronta per la fase di glassaggio. In questo momento siamo pronti, abbiamo preso quello che è il nostro classico dolce da forno, poroso, che adesso noi abbiamo intenzione di voler glassare. Quindi noi andiamo a prendere quella che è la nostra glassa che abbiamo realizzato, andiamo a glassare e il risultato poi è disastroso. Ma questo perché succede? Proprio per questo motivo. Come vedi, questo qui è il dolce glassato. Chiaramente, nel momento in cui abbiamo utilizzato quella che è la glassa a specchio, siamo andati direttamente sul dolce e come ti avevo condiviso, qui il dolce, ovvero la glassa, non è rimasta coprente, non si è aggrappata. Ma anzi, che cosa è successo? È andata ad assorbire la glassa perché? Perché il dolce da forno è molto poroso. Poroso significa che va ad assorbire quello che può essere un contenuto che gli viene chiaramente introdotto dall'esterno. Ed ecco che una glassa, come in questo caso, non può essere utilizzata per glassare un dolce da forno in questa maniera qui, ma deve avere delle osservazioni importantissime, come quelle che ti faccio vedere adesso. Ora, se il nostro obiettivo è quello di riuscire a glassare un dolce da forno come questo qui che abbiamo qui davanti, che prima ha avuto un risultato negativo, l'opzione migliore è quella di andare a glassare anticipatamente con della glassanidro, ovvero del cioccolato, per creare una superficie liscia e pronta per poi essere utilizzata nel momento in cui vogliamo poi glassarlo con la nostra glassa specchio. Come ti faccio vedere adesso. Quindi, leviamo via quella che è la monoporzione che abbiamo realizzato prima che non ha avuto un ottimo risultato, andiamo a prendere quello che è il nostro dolce con la glassatura al cioccolato e andiamo a glassare su in superficie con la glassa specchio rosso che abbiamo realizzato prima. E come vediamo, di conseguenza, il risultato è stupendamente perfetto. E vediamo la differenza. Adesso, come puoi notare, invece, la glassa è rimasta aggrappata su un dolce da forno. Ma quali sono state le osservazioni? Abbiamo coperto inizialmente quello che è il dolce con una glassa anidra, ovvero con del cioccolato. Questo perché? Perché permette poi di avere una struttura liscia e non porosa, dove la glassa può rimanere ben aggrappata e non creare degli effetti indesiderati come quelli che si vedono qui. Quindi è molto importante conoscere questa cosa, perché qui abbiamo creato un inzuppo di glassa. Qui, invece, la glassa è rimasta dall'esterno coprente e ha creato un effetto lucido. Dove però ci tengo a dire anche una cosa molto importante. Qui, noi adesso abbiamo glassato un dolce da forno, ma non è indicato farlo. Cioè, non è... Io non lo apprezzerei. Perché? Perché una glassa, in questo caso, non ha un effetto, diciamo, una finalità positiva nella consumazione di un dolce da forno. Perché un dolce da forno deve essere consumato come un dolce da poter essere conservato poi a temperatura ambiente. Adesso le glassa vengono utilizzate per non far ossidare quello che è il dolce, ma noi possiamo utilizzare altre glassa affinché queste possano essere utilizzate su dei dolci da forno. Le glassa specchio, a mio avviso, sono molto consigliate per dei dolci moderni che devono essere poi conservati in frigorifero. Noi adesso abbiamo fatto questo esperimento per condividere quello che può essere l'utilizzo corretto della glassa nel caso in cui volessimo utilizzarlo a confine alità diverse. Perché se andiamo a glassare un dolce da forno così, di punta in bianco, l'effetto non è positivo perché chiaramente andiamo a creare questo effetto in zuppo. Mentre così, se dovessimo glassare un dolce da forno, lo possiamo ottenere un ottimo glassaggio perché abbiamo creato una struttura liscia dall'esterno. Quindi permette alla glassa di rimanere aggrappata e di avere una struttura bella liscia. Proprio come stai vedendo adesso. Mentre per riuscire a glassare correttamente quello che è un dolce da forno dobbiamo usare delle glassi appropriate che possono essere a base di ganache come quelle che vengono utilizzate per la Saker oppure possiamo andare a realizzare delle glasse anidre come quella che ti faccio vedere adesso. Un ottimo modo per poter glassare i dolci da forno senza la glassa a specchio che è quello che ti consiglio maggiormente è quello di realizzare una glassa anidra quindi del cioccolato diluito con dell'olio e della granella di frutta secca che in questo caso può essere di qualsiasi tipologia. In questa preparazione abbiamo preso quella che è la granella di pistacchio che l'abbiamo inserita poi all'interno del cioccolato con dell'olio e siamo andati poi in superficie sul dolce a temperatura ambiente e poi questo qui è il risultato nel finale. Ecco qui la nostra preparazione glassata con una classica glassanidra dove questa va a proteggere il dolce dove però non ha dell'acqua al suo interno perché a differenza della glassa a specchio qui questa qui è idratata ci ha dell'acqua al suo interno quindi è molto tendente a ad essere chiaramente anche appiccicosa e quindi non è facilmente non possiamo degustarla facilmente di conseguenza ha dell'acqua che può provocare delle muffe e quant'altro sul nostro dolce quindi non è indicato per poter conservare poi il dolce a temperatura ambiente mentre qui la glassanidra come dice la parola stessa è anidra non ha dell'acqua al suo interno e permette di avere una copertura del dolce proteggerlo per non farlo invecchiare di conseguenza per mantenerlo anche goloso in più la glassa poi ha anche un effetto di degustazione perché noi assaggeremo anche quello che è il gusto del cioccolato con in questo caso quello che è il pistacchio per dare anche un gusto maggiore nella preparazione e con questo cosa voglio dirti voglio dirti che oggi abbiamo visto come usare le glasse perché per alcuni dolci non sono utili non è giusto usare delle glasse come quelle a specchio per i dolci da forno perché possono succedere degli inconvenienti e quindi abbiamo delle priorità da dover diciamo rispettare affinché delle glasse vengono utilizzate per alcune preparazioni in un determinato modo mentre altre glasse sono più indicate per altre tipologie di preparazioni quindi oggi abbiamo visto il perché succedono alcune cose in pasticceria se ti è piaciuto il video e se ti è stato utile mi raccomando lascia un like iscritti al canale e ci vediamo nel prossimo appuntamento ciao